Ha richiamato tanta gente all'oratorio di Vico Boneghisio, la fiera di Santa Margherita, patrona della frazione di Casal Maggiore, per una festa al solito molto sentita e rilanciata, in particolare negli ultimi anni. Il colpo d'occhio era notevole, così come il programma è stato molto intenso. Siamo alla non edizione della saga Santa Margherita, in occasione appunto della festa della nostra patrona qua di Vico Boneghisio, Santa Margherita e appunto siamo ben contenti di questa festa qua che tutti gli anni è sempre andata in crescere e anche quest'anno ha dato il suo massimo, possiamo dire già da queste sere per il numero di persone che sono venute e con gli eventi che si sono anche collaterali. Tutti i gruppi che vengono anche a collaborare con noi, quest'anno invece siamo anche in collaborazione con stelle sulla terra in cui ci sarà anche appunto un momento, uno stand della vendita delle torte per questa associazione qua. La novità del gemellaggio con stelle sulla terra, citata dal parroco Don Alfredo Assandria, è stata particolarmente gradita e ha portato alla raccolta fondi per l'associazione che aiuta bambini affetti da autismo e le loro famiglie. Ma la fiera ha coinvolto più generazioni del paese eppure di frazioni limitrofe del centro di Casal Maggiore grazie al lavoro dei volontari del gruppo Oga e Bigoga. Protagonisti nella Due Giorni, la musica con la band Blues ed Intorni, il karaoke party, il buon cibo e l'animazione per i più giovani. Domenica, infine, la messa dedicata proprio alla patrona Santa Margherita.